È una prassi sempre più diffusa quella che vede gli automobilisti mettersi al volante di vetture sprovviste di copertura assicurativa, di qui l'inasprimento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e anche ieri, soprattutto nel Vallo di Diano, non sono mancati i risultati. Cinque i mezzi posti sotto sequestro in poche ore, quattro perché privi di copertura assicurativa e uno in quanto risultato avere un tagliando assicurativo falso. E proprio per quest'ultimo guidatore, che ha preso alla leggera la normativa vigente, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lago Negro per uso di atto falso. Quindi, oltre al sequestro del mezzo e alla contravvenzione che si aggira sui mille euro, come per gli altri automobilisti indisciplinati, dovrà vedersela con la giustizia. Le condotte illegali sono state interrotte nei comuni di Tegiano, Sassano e Buonabitacolo. Con i sequestri di ieri salgono a 25 i mezzi sequestrati nel Vallo di Diano, dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nei soli ultimi 15 giorni.